Un grazie particolare naturalmente agli organizzatori, all'associazione Asproni che tante volte in passato si è distinta per l'attenzione e la cura che ha riservato agli argomenti non solo della storia sarda ma attraverso alcuni personaggi della storia sarda, anche alla storia italiana, soprattutto in questo momento importante, l'Ottocento, la formazione dello Stato Unitario e il ruolo che questi personaggi possono aver avuto, Asproni certamente primo fra tutti, ma oggi vediamo anche il Cardinale Amat. Il Cardinale Amat figura peraltro ben nota ma sempre molto per flash, molto per piccoli lampi su quella che è stata poi, se non sono state le vicende principali della sua vita, tra l'altro la meraviglia è che si sia dovuto arrivare al 2012-2013 per avere, non dico una biografia, perché anche se quella che introduce il volume, la biografia di Francesco Amat è un profilo degno di grande rispetto e degno di attenzione, però non siamo certamente al lavoro definitivo su Amat, questo conviene dirlo subito, perché appunto un lavoro definitivo su Amat comporterebbe alcuni approcci, ecco per esempio quello di Carlo Fiorentino che ha costituito una integrazione così ricca appunto a questo periodo finale della vita, cioè quello che va poi dal 60 al 78, cioè per 20 anni della vita, sono 20 anni importanti e chiaramente questo per esempio sarebbe, e tra l'altro lo stesso Fiorentino andrebbe a sua volta integrato con altre annotazioni, perché ci sono, perché poi non mancano le testimonianze sul cardinale Amat, ripeto è un personaggio importante della Curia, è un personaggio importante della Curia anche se cade in disgrazia con il 40, dopo il 49, 50 praticamente viene totalmente marginato dal cardinale Antonelli, la vita in la Curia nell'ottocento non era facile, forse anche oggi, forse anche nel novecento, forse anche nel duemila, non lo so, si sentono così ogni tanto degli spifferi e sembra appunto che ci sia qualche problema, però anche l'ottocento insomma con tutta la sua bontà, con tutta la sua pietas, di cui tra l'altro voglio dire, cardinale Amat, qui sembra un politicante, no? E invece era un uomo di chiesa, vescovo, ecco la storia delle diocesi che regge negli ultimi anni della vita, sono tre diocesi suburbicarie importanti, c'è quella di Palestrina, ma c'è anche quella di Porto e Rufina, c'è quella di Ostia e Belletri, insomma sono, ecco questa storia non l'ha scritta ancora nessuno, eppure andrebbe vista, perché uno dei punti di rinnovamento della storia della chiesa negli ultimi 50 anni è stato proprio il punto di vista della diocesi, cioè l'attività pastorale, il rapporto con la società, in un momento importante per la vita della chiesa, quindi questi sono tutti punti che se volessimo fare veramente una biografia di Amat bisognerebbe affrontare. Con questo non voglio dire, questo libro è validissimo, per carità, prima l'amico Conti ha detto risparmio i complimenti agli autori, io invece glieli faccio, ma non perché non, ma perché poi credo che faccia anche piacere a loro, ma glieli faccio soprattutto perché voglio rilevare come questi saggi che ci hanno offerto, pur appunto nel circoscrivere alcuni, a parte il saggio iniziale che ripeto è un profilo biografico completo e racconta anche parecchie delle vicende che poi sono state illustrate da Fiorentino, però gli altri mettono a fuoco dei momenti particolari, Pignotti con il 48-48, 48 soprattutto, 47-48, cioè il periodo di Bologna che è un periodo agitatissimo, è un periodo agitatissimo della vita di Amat, che peraltro gli comporta anche qualche giudizio negativo da parte della Curia, perché si dirà più avanti non ha mostrato sufficiente energia, ma la situazione in Bologna è una situazione incandescente con la gente che veniva ammazzata per strada, quindi con gli austriaci alle porte, e Amat se la cava bene, però certo gli resta questa cosa. Poi c'è il saggio di Nicola Gabriele, che appunto guarda soprattutto alla vita della Chiesa in questo periodo e quindi al suo rapporto appunto con l'Italia che vuole nascere, diciamo così, quindi col patriottismo, col liberalismo, e poi da ultimo c'è questo saggio sul periodo 53-54 di Enrico Amat, che appunto anche questo è un altro momento importante, però come vedete in mezzo ci sono tante altre cose, in mezzo ci sono tante altre cose e quindi io credo che molti spunti vengano offerti proprio dalla biografia iniziale, che appunto è un quadro completo, quindi sono tante piste sulle quali lavorando a Roma, lavorando nell'archivio segreto Vaticano, andandosi a guardare gli spoglidi, perché voi sapete che quando un cardinale moriva la segreteria di Stato, la segreteria di Stato faceva portare via da casa tutto il materiale che il cardinale, soprattutto quello che aveva conservato, diciamo così, in quanto nell'esercizio delle sue funzioni Amat ha avuto un ruolo di amministratore, come avete visto è stato legato a Bologna, è stato delegato a Postolico Arrieti, a Spoleto, Benevento, insomma, quindi questa è spesso nella vita, come dire, nell'archivio personale dei cardinali restava traccia di questa attività e la segreteria di Stato quindi si preoccupava di recuperare questo materiale, dopodiché veniva costituito questo fondo dello spoglio dei cardinali, in cui poi veniva per confluire anche altro materiale, sono sicuro, io non sono andato a guardarlo, ma sono sicuro che lì ci sarà materiale, così come ci sarà materiale nella congregazione di propaganda fide, di cui è stato non prefetto di propaganda fide, prefetto dell'economia di propaganda fide, è diverso, un'altra cosa, quindi anche lì ci sarà, e poi ci sarà materiale appunto sulla sua legazione a Bologna, sul suo rapporto con gli austriaci, qual'era, qual'è poi la, se vogliamo vedere, se vogliamo vedere, se vogliamo entrare un po' proprio nella, 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 come dire, mentalità del personaggio, che è un personaggio che merita di essere approfondito, qual'è la chiave di tutta la sua, questa prima parte della sua vita? Io credo di averla individuata, ma ovviamente mi posso sbagliare, è la cosa necessita sicuramente di alcuni riscontri, però credo che sia una buona chiave, ed è quella del suo legame con Casa Savoia, legame fortissimo con Casa Savoia, che nasceva, derivava dal fatto che era sardo, che aveva un fratello che era gentiluomo di camera di Carlo Alberto, un altro fratello che era gentiluomo di camera di Vittorio Emanuele II, quindi copre il fratello Vincenzo, di cui troviamo poi il rapporto finale con, appunto, per relativo al 54, quella trattativa che viene fatta col regno di Sardegna. Perché viene chiamato italianissimo? Come capita di leggere in una fonte, Amat viene considerato italianissimo, italianissimo voleva dire patriota praticamente, che per un uomo di chiesa è una specie di, come dire, condanna, una specie di macchia, di disonore. Viene chiamato italianissimo per i suoi legami con Casa Savoia. Amat, prima di essere italiano, si sentiva fondamentalmente sardo e piemontese. Si sentiva molto legato alla Casa Regnante e non era, si può dire che fino al 1859, fino a che la Casa di Savoia non scopre questa vocazione unitaria, con Cavour, insomma, tra il 56 e il 59, Amat è assolutamente convinto che si debba lavorare per le fortune di Casa Savoia, per quelle che sono le sue aspirazioni del tempo, cioè la Lombardia. Amat diventa unitario, quindi dire che è italiano, secondo me non è del tutto, che è italiano lo sarà dopo, dire che è italiano nel senso di unitario, secondo me almeno, diciamo così, fino al 1855-56 è sbagliato, è vero che poi è un uomo che riservava alla politica non tutte le sue attenzioni, però certo seguiva gli eventi, tanto più dopo il 49-50 quando praticamente viene marginato, viene messo da parte e allora probabilmente i suoi contatti con la famiglia, i suoi contatti con la Sardegna, che appunto fa parte del regno, insomma ha dato il nome al regno, sono contatti che lo portano a credere e a seguire sempre più con attenzione le vicende della monarchia sabauda. E parallelamente alla monarchia sabauda si sviluppa poi questa sua attenzione appunto per lo sbocco unitario di questa lotta politica che ha luogo nel decennio 50-60. Quindi questo è, tant'è vero, guardate che c'è una, c'è una qualcosa che ancora conferma, o dovrebbe, potrebbe confermare questa mia ipotesi, il fatto cioè che nel 1853 gli viene prospettata la possibilità di diventare arcivescovo di Torino. Lui ci terrebbe moltissimo, vorrebbe arrivare a Torino come arcivescovo perché, ripeto, ancora una volta si considera piemontese, sardo piemontese, a tutti gli effetti, ma il legame della Sardegna col Piemonte, almeno in alcuni, forse in Asproni no, ma almeno in alcuni è notevole, soprattutto in questa aristocrazia sarda, che è legata appunto alla corte. Allora lui vorrebbe andare a Torino, però in questo caso l'Antonelli, il cardinale Antonelli e Pionono gli giocano un brutto scherzo. Proprio gli fanno pagare che cosa? Il fatto che nel 48 gli è stata offerta la segreteria di Stato, la segreteria di Stato dello Stato della Chiesa e Amat ha rifiutato, ha rifiutato dicendo che non si sente all'altezza, che non si sente adeguato, in realtà questo qui viene fuori un altro degli elementi che bisogna tener presente, che sono gli elementi caratteriali. La storia è fatta di tante vicende, tante volte trascuriamo che gli uomini sono uomini, che hanno i loro problemi, i loro difetti, le loro qualità. C'è una certa concordia nel dire che il cardinale Amat è una bravissima persona, un uomo molto distinto, portamento a sei fine, bella persona, bella figura, tra l'altro che aveva successo in passato, questo verrà fuori quando si parla della sua possibile candidatura al papato, da giovane insomma non è che era stato proprio irreprensibile, si era dato un po' alla vita mondana e quindi viene fuori questo, ma viene fuori anche appunto che questo suo carattere lo rende un po' pigro, gli fa scansare un po' le cose troppo impegnative, quando non vuole fare una cosa si ammala, si mette in malattia, insomma sono aspetti, così perlomeno vengono presentati dalla Santa Sede in cui c'è un uomo come Antonelli che ha tutto l'interesse a mettere in cattiva luce quelli che considera appunto suoi rivali o comunque troppo aperti verso il resto dell'Italia, ecco mettiamolo in questi termini, cioè troppo disponibili a sentire coloro che parlano appunto di secolarizzazione delle cariche per esempio nella prima fase della storia della Chiesa, insomma della storia della Chiesa dell'Ottocento, oppure che parlano di conciliazione con il partito liberale, con il movimento indipendentista, che parlano di partecipazione e di sostegno, Amatin segue con molta attenzione anche il momento in cui il Papa vorrebbe portare un aiuto militare alla guerra del Piemonte nel 48 in Lombardia e poi invece fa l'allocuzione del 29 aprile e dice no, noi blocchiamo, fermiamo le nostre truppe che sono già partite perché non è il nostro compito intervenire in una guerra tra paesi cattolici perché le nostre truppe non possono correre il rischio di mandare al portatore dei soldati cattolici, che è uno scrupolo che poi magari l'anno dopo non avrà facendo bombardare Roma dai francesi, vabbè ma questo è un piccolo dettaglio, però ecco questo elemento qui è l'elemento che poi appunto questo primo attrito che emerge tra la persona del Cardinale Amat, il suo modo di pensare, il suo punto di vista e la segreteria di Stato e il Sacro Collegio è qualcosa che poi lo accompagna per il resto della vita e che appunto nel 49 Amat segue il Papa Gaeta come tanti altri cardinali, però è anche uno che per esempio è molto legato a Rosmini, cioè a quella parte della Chiesa che consiglia a Pio IX quando torni a Roma mantieni la Costituzione, Pio IX non dà retta perché non ne vuole più sentire parlare, la Costituzione è stato un peccato di gioventù del quale si vuole liberare a tutti i costi, soprattutto perché Antonelli lo obbliga a liberarsi dalla Costituzione e quindi Amat diventa, come dire, subisce le sorti di questo, del fatto di essere un consigliere poco gradito e poi appunto come dicevo prima viene messo ai margini totalmente, nel 52 gli assegneranno questa diocesi di palestrina in cui lui si rifugia appena può, anche questo è un'altra cosa che troviamo spesso nelle fonti del tempo, se ne va in campagna perché così sta lontano dall'aria mefitica che si respira a Roma, perché purtroppo questa è la situazione, almeno come viene rappresentata da questi oppositori, di questo momento particolare della vita della Santa Sede in cui c'è Antonelli che è un uomo di valore, ma è solo che ha questa sua idea fissa di difendere in maniera intransigente il potere temporale e di mettere in cattiva luce tutti coloro che invece dicono beh pensiamoci bene, cerchiamo di arrivare a una trattativa, cerchiamo di non essere rappresentati, messi in cattiva luce rispetto all'opinione pubblica italiana e mondiale e certo la chiesa in questo periodo si gioca molte delle sue simpatie a livello di opinione pubblica perché questo intransigentismo viene considerato troppo, è vero che Pio Nono dice io devo consegnare il potere temporale al mio successore così come l'ho ricevuto ed è un fatto di onore per me, questo lo dice Pio Nono, però non può trascurare comunque o non avrebbe dovuto trascurare che comunque è un compito gravosissimo quello di tenere in vita un potere temporale che ormai non è più in grado proprio perché è circondato da tutte le parti, le stesse potenze, le stesse potenze che hanno sostenuto e sostengono lo stato della chiesa perché gli fa comodo, perché tiene divisa l'Italia, però un po' alla volta si arrendono all'idea che il potere temporale non è un vantaggio per il Papa ma è una qualcosa che appesantisce molto la sua azione, qualcosa che soprattutto appesantisce la sua azione nel campo spirituale, Pio Nono dice io devo difendere la mia, il potere temporale mi serve a difendere la mia autonomia nel campo spirituale, gli incominciano a ribattere che la sua autonomia nel campo spirituale viene difesa meglio se si libera di questa zavorra del potere temporale. Comunque su questo contrasto va avanti la storia d'Italia e dello stato della chiesa fino al 1870, quando poi il problema verrà risolto nel modo che sappiamo. Quanto al cardinale Amat che vi dicevo resta confinato nella sua diocesi palestrina e praticamente non ha più voce in capitolo e quindi da un punto di vista politico non può dare più nessun contributo, però è notevole che venga considerato come soprattutto nel momento della malattia di Pio Nono, questa del 61, quando sembra che Pio Nono debba sparire e scomparire da un momento all'altro, è notevole che possa essere considerato tra i papabili, un candidato possibile, molto gradito al Piemonte ovviamente e poi all'Italia e poi all'Italia e molto gradito alla Francia anche. Però è proprio qui che cominciano le sue sfortune, cioè il fatto di essere come dire tutto spostato, oggi diremmo impropriamente a sinistra diciamo, gli pregiudica l'appoggio della destra. Infatti il rappresentante austriaco che appunto cita questa, fa un profilo del cardinale Amat, proprio in vista di un possibile conclave, mentre il francese dice un ottimo personaggio, sarebbe molto opportuno che venisse fatto Papa, il rappresentante austriaco cosa dice? Il cardinale Amat è il candidato liberale, questi sono profili che vengono mandati alle cancellerie, ovviamente questi sono i rappresentanti a Roma, io ho preso questo materiale da due volumi di uno studioso tedesco che si chiama Christoph Weber, il quale ha pubblicato questi due volumi intitolati, sono in tedesco, cardinali e prelati nel XIX secolo dove erano stato pontificio, insomma nella Santa Sede. E allora ci sono queste fonti che sono utilissime, al di là di Pantaleoni, che è un altro che pure compare in queste fonti perché Pantaleoni era poi l'uomo di Cavour a Roma, al di là di voi però ci sono questi stranieri che sono ancora più interessanti proprio perché spostano l'attenzione diciamo così dal quadro interno al quadro internazionale. E allora cosa dice? Il cardinale, questa cosa è del 61 questo documento, ovviamente dice anche altre cose, piemontese di nascita, ecco sottolinea che piemontese di nascita, il cardinale Amat protetto da Leone XII ha fatto una carriera molto rapida, è in francese questa cosa ma io sto traducendo per rapidità, ha sempre professato delle opinioni liberali e passa per essere un nemico dichiarato dell'Austria, ecco quello che gli pregiudica qualunque possibilità di essere appoggiato. Quello che ha particolarmente accreditato questa opinione è stato il fatto che nel 49 come legato a Bologna, in realtà era commissario, ha cercato di ostacolare i generali austriaci, di opporsi ai generali austriaci, i quali stavano occupando tutto il nord dello stato pontificio, con delle procedure così apertamente ostili che ha dovuto essere ricchi, che l'hanno dovuto richiamare a Roma. Ecco quindi il marchio di infamia su Amat è stato troppo ostile ai generali austriaci. Da quest'epoca in poi ha vissuto sotto il pretesto di una cattiva salute, pressoché continuamente in campagna nella sua diocesi di Palestrina. Il cardinale Amat è il candidato liberale, sostenuto dalla Francia e dal Piemonte, gode del triste onore d'essere supportato dagli organi del partito cosiddetto italianissimo. Ecco l'italianissimo che compare. Questo è il cardinale Amat, così come lo presenta il... però c'è questo elemento e c'è l'altro, c'è l'altro, questo della sua giovinezza un po' scapigliata, che secondo appunto Pantaleoni e secondo altri, secondo altri testimoni, tutti mandano questi profili, perché l'elezione di un Papa è un'elezione che coinvolge tutti i paesi, no? Quindi sono tutti i paesi cattolici, ma anche quelli non cattolici, però i quelli cattolici in particolare, come sapete sia Francia che Austria hanno per esempio fino all'elezione di Pio IX e anche mi sembra l'elezione di Leone XIII, hanno il diritto di veto. Se un candidato non gli sta bene possono... questo per dire come appunto è seguita, con quale attenzione è seguita l'elezione. Perché? Perché un pontefice che sia schierato da una parte o dall'altra è una figura che può essere decisiva, no? E quando appunto viene fuori questa possibilità della candidatura, della papabilità di Amat, allora viene fuori anche questa storia della sua giovinezza scapestrata. E insomma, e c'è qualcuno che dice con questo precedente, con questo precedente non potrà mai diventare Papa. Un altro però che è Francesco Lasagni, Francesco Lasagni dice, dice sì è vero, adesso se volete ve lo... ho finito, c'è ancora cinque minuti? Francesco Lasagni non lo trovo, eccolo qua, Francesco Lasagni. Dice è vero, si pretende che il cardinale Amat nella sua giovinezza sia stato un po' portato alla galanteria, che è un modo molto elegante di dire, no? Che aveva corso un po' la cavallina. Ma i tempi e il genere di vita attuale ne hanno fatto perdere completamente il ricordo di questa cosa. Dice ormai acqua passata quella, figuriamoci, sono passati 40 anni. La sua istruzione, il suo giudizio, le sue maniere, molto fine, molto distinto, e la sua figura appunto distinta, sono delle qualità che lo potrebbero condurre al papato. Valevano appunto anche queste considerazioni, si presenta bene, insomma, poi ha dei buoni modi, è un aristocratico, ma la sua... ecco, questa è la parte importante, ma la sua reputazione di duplicità, di doppiezza, e la mancanza di espansione, cioè il carattere poco gioviale, alcuni invece dicono che è molto gioviale, molto affabile, questo dice la mancanza di espansione che gli è propria, come proprio a tutti gli isolani del Mediterraneo, non mi risulta, però dice che appunto paga anche questo scotto, diciamo così, sicuramente gli faranno perdere dei voti. Essere sardi è un vantaggio, ma può essere anche uno svantaggio nell'Italia dell'ora, no? Oggi no. Inoltre, è lui che si è trovato mescolato nell'affare Passaglia, insomma, altre questioni appunto di tentativi di accordi tra Stato e Chiesa che sono andati male, che Cavour avrebbe voluto andassero meglio, insomma. Ecco però, questo è il ritratto, il profilo di Amat in questa fase, in questo momento importante. Passato questo momento, che poi è il momento della malattia di Pio IX, Pio IX avrà ancora altri disturbi, però mai così gravi, allora veramente si era temuto per la sua salute. Passato questo momento di Amat non si parla più. Non si parla più, ciò non toglie appunto che, grazie per esempio al ricco fondo che è conservato all'Istituto per la Storia di Sorgimento, e che lo vede in corrispondenza con tutti i suoi colleghi cardinali, sia quelli del periodo di Gregorio XVI, che quelli del periodo di Pio IX, sia i reazionari, perché poi Amat, proprio per essere aristocratico, aveva questa capacità di saper parlare con tutti. Quindi ci sono le lettere a Lambruschini, che era uomo sicuramente reazionario, o a De Angelis, e ci sono le lettere invece a Bofondi, a Santucci, a Pentini, a quegli altri che invece appartenivano, a Ciacchi, che appartenivano al partito piononista, del primo pionono del Papa liberale. E quindi questa è una miniera senza dubbio importante di notizie che renderebbero auspicabile possibile un ulteriore appartamento. Per cui vorrei spezzare qui una lancia, è proprio una prosecuzione di questa bella ricerca, che ha molti meriti, ma che però appunto deve essere vista come una specie di apertura o di preannunzio di uno sforzo ulteriore, perché è uno sforzo che è possibile fare. E lo farei tenendo presente un'ultima cosa che voglio sottolineare, in relazione a quello che dicevo prima, e anche uomo di chiesa, perché poi non vorrei che lo si considerasse troppo sotto l'aspetto della mondanità o della politica, perché sono due cose separate. L'uomo di chiesa conto molto, soprattutto quando uno non è cardinale diacono, ma è cardinale vescovo. Tre ordini, tre ordini. Quello del cardinale vescovo era sicuramente, mentre il cardinale diacono poteva avere, se non sbaglio mi corregga, non sono, però credo di sapere che se uno era cardinale diacono poteva avere anche gli ordini minori, e infatti si trattava spesso di avvocati che facevano carriera nella chiesa, insomma, il cardinale Gamberini per esempio, che poi fa la riforma del ministero degli interni, era un avvocato. Ma lo stesso Bernetti, lo stesso Antonelli se vogliamo, lo stesso Antonelli, erano cardinali che avevano poco di religioso e molto di politico. No, Amat aveva tutte le carte in regola, e tra l'altro una cosa che c'è di notevole da aggiungere a quello che ha detto Fiorentino quando parla di questa posizione di Amat nei confronti dei sondaggi che vengono fatti da Pantaleoni, per capire un po' che area tira a Roma e che possibilità ci sono di organizzare, insomma, una cordata, come si direbbe oggi, a favore della fine del potere temporale. E Amat, quando viene interpellato, dice due cose importanti. Sì, a me interessa e sarei contento che ci fosse una conciliazione tra state e chiesa. Però ricordatevi che il modo con cui voi, della Nuova Italia, state affrontando il problema dei rapporti con le istituzioni religiose, e cioè facendo arrestare il cardinale De Angelis, oppure chiudendo i monasteri, oppure avviando l'incameramento dei beni ecclesiastici, non è la migliore delle carte da visita per Pio IX. E Pio IX non l'avrete mai dalla vostra parte finché continuerete a, come dire, rappresentare una parte così aggressiva, così decisa alla secolarizzazione, però anche così precipitosa, così risoluta a risolvere il problema una volta per tutte. Su queste cose bisogna... ecco, qui parlava veramente l'uomo di chiesa con un'esperienza alle spalle notevole, no? Su queste cose bisogna procedere con una certa... cercando l'accordo, prima di provocare la rottura e non dopo che la si è provocata. Questo credo che sia forse l'elemento di maggiore peso di cui tener conto proprio per capire la personalità di questo personaggio così interessante e così importante, ma ahimè anche, tutto sommato, ancora forse con qualche lato della sua personalità da conoscere. Vi ringrazio. Grazie.